Ciao, sono Luigi di Clarintux, un Tux per sempre. Come saprete, sul nostro sistema operativo GNU Linux possiamo installare diversi ambienti grafici, anche più di uno contemporaneamente. Abbiamo a disposizione numerosi desktop environment e altrettanto numerosi Windows Manager. La differenza tra i due è che un desktop environment porta con sé numerose componenti che soprattutto un utente novizio si aspetta di trovare. Ad esempio, un pannello, un file manager, un emulatore di terminale, un'applicazione per settare il wallpaper, lo sfondo, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente contiene al suo interno un Windows Manager, ossia quel programma che va a stampare, a disegnare le finestre sullo schermo. Il Windows Manager, invece, è appunto solamente un Windows Manager, quel programma che va a stampare le finestre. Potrebbe benissimo venire senza alcun pannello e senza alcun programma aggiuntivo. Quindi siamo noi che dobbiamo andarlo a configurare, che dobbiamo andare a scegliere tutte le componenti che vogliamo far parte del nostro desktop environment. Perché sì, alla fine ci costruiamo noi stessi un desktop environment, per come vogliamo noi. Bene, oggi vorrei presentarvi OpenBox, che è un Windows Manager molto leggero e configurabile. Magari andate sulla wiki di Arch Linux, le wiki di Arch Linux sono sempre molto ben fatte, quindi ve le consiglio. E qui vedete come installarla e come configurarlo. Potete adattare la guida alla vostra di distro. Bene, cominciamo. Ho qua una macchina virtuale con parabola, è un sistema minimale installato da poco o per nulla configurato. Quindi direi di cominciare andando a installare dapprima il server X, perché non c'è nemmeno installato il server X. Quindi, se siete su una distribuzione basata su Ubuntu oppure su Debian, andate con sudo apt install, sudo apt install, e poi il nome dei pacchetti. Se siete, ad esempio, non so, su Fedora, sudo dnfinstall, se siete su una distro basata su Arch, come nel mio caso, sudo pacman, e installiamo Xorg. E poi OpenBox. Diamo invio, password. Va bene, scusate, ho sbagliato la password. Ok, adesso ci siamo, diamo tutto. Abbiamo due repository, in questo caso il primo va benissimo. Confermiamo. E sta scaricando i pacchetti. Ci rivediamo quando ha finito di scaricare e di installare. Direi di installare anche un emulatore di terminale, altrimenti possiamo fare ben poco. Io installerò Xterm, voi potete installare un qualsiasi altro terminale. E già che ci siamo, installiamo tutti i pacchetti di cui abbiamo bisogno. Quindi vado con sudo pacman-s, Xterm, abbiamo detto. Poi per la configurazione di OpenBox installiamo ObConf. Installiamo un pannello. Il pannello che viene usato di solito è Tint2, ma voi potete usare tranquillamente anche il pannello di XFCE, oppure un altro pannello. Poi come file manager io scelgo TUNAR, cioè il file manager di XFCE. Poi per scegliere il tema GTK abbiamo bisogno di un programma, LX Appearance. Poi cos'altro? Magari un editor di testo per non utilizzare Vim o Nano su un terminale. Io scelgo Mousepad, di nuovo una scelta presa dall'ambiente grafico XFCE. Magari installiamo ancora Pycom per le trasparenze e gli effetti ombra. un lanciatore di applicazione, ad esempio Rofi. Cos'altro? Va bene, direi che questo può bastare per il momento. Quindi installiamo. Metto in pausa e ci rivediamo dopo. La wiki di Arch Linux consiglia anche di installare dei font, quindi facciamolo sudo pacman-s ttfliberation e ttfdejavu. Ok, va bene. Non ho installato alcun login manager. Voi probabilmente avete già un login manager sul vostro sistema oppure ne potete installare uno, ad esempio lite.dm. Quindi installate lite.dm e lite.dm.gtk.gritter. Non lo faccio, vi mostro invece come accedere semplicemente dalla console tty1, da ttty1, andando a creare il file .xenitrc. Qua scriviamo exec openbox session. Salviamo e a questo punto possiamo avviare openbox con startx. Perfetto, sembrerebbe che non è successo nulla, beh invece siamo già su openbox. Openbox, come ho detto, è semplicemente un window manager. Non abbiamo nulla, uno sfondo nero. Ma se clicchiamo con il tasto destro sul desktop, ecco che si apre un menu. Bene, avendo installato Xterm, non dovrebbe essere difficile avviarlo, perché Xterm diciamo che è l'emulatore di terminale che i window manager di solito si aspettano di trovare. Se andiamo su Terminals, abbiamo Xterm, esatto. E questo è Xterm, non configurato in nessun modo. Magari mi entrò a scaricare la configurazione che ho sul mio repository GitHub, ma intanto direi di andare a copiare i file di openbox. Andiamoci con il file manager tuner, quindi file manager tuner, e sul file system, ingrandisco un po', ok, andiamo su etc, poi su dove xxxxdg, qua abbiamo openbox, copiamo questi file sulla directory nascosta config. quindi selezionate qua per vedere la visualizzazione dei file nascosti, andate sul directory config, create la cartella openbox, e qua copiamo tutti i file. Andiamo sul file autostart, faccio apri con mousepad, e scriviamo in fondo tint2, o voi scriverete il vostro di pannello, poi il simbolo ampersand, poi scriviamo ancora pycomcf ampersand, questo come detto è per le trasparenze, per gli effetti ombra, poi scriviamo ancora nitrogen trattino trattino restore ampersand, per il momento può bastare, quindi salviamo e chiudiamo. Nitrogen però non ha al momento alcun wallpaper, alcuno sfondo, io direi di scaricarmi direttamente gli sfondi che ho sul mio repository github, quindi apro di nuovo xterm, e vado con un git clone, non ho nemmeno installato git, prima installo git, sudo pacman git, va bene, adesso posso clonare, quindi clit git clone, quindi clit git clone, https github.com clarintux wallpapers.git, e lo clono su wallpapers, wallpapers, ok, ci vorrà un po', quindi metto in pausa. Adesso ho una cartella wallpapers con tutti gli sfondi, quindi abbiamo nitrogen, clicchiamo su preferenze, clicchiamo su aggiungi, e aggiungo appunto la cartella wallpapers, valpapers, va bene, ok, scegliamone uno, va bene, applichiamo, e può già andare. Da questo punto in poi, se usciamo da openbox, al riavvio abbiamo questo wallpaper, perché abbiamo inserito la riga nitrogen-restore, sul file di autostart. Usciamo da openbox, facciamo di nuovo startx, e vediamo che questa volta è partita il pannello tint2, le trasparenze, e abbiamo il wallpaper. Bene, siccome il menu di openbox contiene delle voci che non sono installate sul sistema, direi di sistemare la cosa, andando a installare menu maker, sui repository di arch, è presente questo pacchetto, su altri repository probabilmente no, quindi vi dovete cercare il programma, probabilmente compagiarlo da sorgenti, comunque io vado con sudo pacman, trattino s, m, maker, o menu maker, non mi ricordo, menu maker, sì, menu maker, ok, va bene, aspettiamo un po', e adesso posso generare il menu, con, m, maker, trattino, v, f, openbox, 3, trovate tutto sulla wiki di arch, ok, fatto, dobbiamo reconfigurare, reconfigurare openbox, reconfigure openbox, e a questo punto vediamo che il menu è stato aggiornato, e troviamo ad esempio mousepad, come editor di testo, insomma, solo quello che abbiamo davvero installato sul sistema, bene, direi di cambiare l'aspetto dell'applicazione GTK, con LX Appearance, che abbiamo installato, lo troviamo su System Settings, Customize Look and Feel, eccolo qua, come vedete non abbiamo temi installati, per brevità installerò un tema presente sui repositori di arch, probabilmente anche su altri disto, vado con sudo pacman, meno s, arch, arch team, no, non era così, arch gtk team, sì, ok, e ci sono anche le icone, va bene, installiamole direttamente, arch icon team, e adesso possiamo riavviare LX Appearance, da System Settings, e come vedete adesso abbiamo i temi, vado con arch dark, si, arch dark, su tema iconi scelgo arch, vado su applica, ok, e adesso se ad esempio apriamo un file manager, dove era, System, no, Tunnel File Manager, ok, è cambiato l'aspetto dell'applicazione, gtk, adesso modifichiamo anche la barra del titolo, con obconf, che troviamo su System Settings, Open Box Configuration Manager, eccolo qua, aspettate che sposto la camera, direi di andare con questo, ok, già è cambiata la barra del titolo, qua possiamo anche cambiare diverse cose, ad esempio il font utilizzato, cosa mostrare e non mostrare sulla barra del titolo, poi abbiamo ancora i desktop, il numero dei desktop virtuali, eccetera, va bene, questo può bastare, quindi come vedete abbiamo già configurato un po' Open Box, e l'aspetto è sicuramente migliorato, ma si può fare molto di più, va bene, siccome il video già sarà abbastanza lungo, vi mostro un'ultima cosa, apriamo il file manager, andiamo su config, poi su Open Box, ed rc.xml è il file su cui troviamo tutte le configurazioni, ingrandisco un po', ad esempio, vedrete, quanti desktop sono presenti, quanti desktop virtuali, forse abbiamo già passato il numero dei desktop virtuali, va bene, non fa nulla, e poi abbiamo tutte le combinazioni dei tasti per effettuare una qualche operazione, io ho già aggiunto la pressione di tasti Alt Invio, per Xterm, per l'emulatore di terminale, e Alt Spazio per Rofi, e quindi qua possiamo già lanciare delle applicazioni senza bisogno di andare sul menu, come ho fatto, va bene, ritorniamo sul file, config openbox rc.ml, ingrandisco, vedete, keybind a return, questo mi va ad eseguire Xterm, e poi, Alt Space, va a eseguire Rofi. Va bene, questo è tutto per oggi, spero che il mio video vi sia piaciuto, magari un giorno farò un video su un tiling window manager, alla prossima, ciao da Clarintux.